Vetraia Monti, l'inimitabile qualità di un prodotto artigiano. L'officina, la lavorazione del vetro, il taglio dei profili, la ricerca di soluzioni, il progetto e l'installazione sono la nostra vita da ormai due generazioni. Da sempre l'officina è come un laboratorio artigiano. La qualità di ogni lavorazione rivela il sapiente utilizzo del lavoro manuale. La personalizzazione è alla base della soddisfazione dei nostri clienti. Qualità significa anche scelta dei materiali e dei fornitori. Per questo trattiamo i marchi più prestigiosi. Alla vetreria Monti, finestre residenziali, persiane e veneziane, vetrate mobili e verande, portoni per garage, porte blindate, porte per interni, vetro artistico, arredamento in vetro, vetri speciali, facciate edifici e portoni industriali. La vetreria Monti, finestre e a Como, in via del DOS 8.